La cosa più importante di tutto il processo è stata sicuramente trovare la giusta soluzione in fatto di funzionalità e aspetto visivo degli ambienti di lavoro. All'inizio le discussioni sono state intense poiché si tratta logicamente di scelte che hanno a che fare con delle persone. Sin dall'inizio abbiamo proposto un sistema aperto in forza del fatto che negli anni trascorsi abbiamo avuto l'occasione di realizzare vari progetti di questo tipo. Mi viene in mente il quartier generale di Microsoft a Vienna in Austria oppure le ferrovie di Stato austriache sempre a Vienna dove abbiamo riscontrato ottime esperienze grazie ai sistemi comunicativi aperti. Ad ogni modo questi sistemi comunicativi aperti devono anche poter fornire ai collaboratori le necessarie isole ambientali. Ed è questa la novità. Gli open space esistono già da molto tempo e non godono più di buona reputazione proprio per il fatto che non tenevano conto del necessario equilibrio che vi deve essere tra il vivere in comunità e le dinamiche della comunicazione e le esigenze di privacy del singolo. Questo progetto ci riesce molto bene perché organizza gli uffici per gruppi. Non stiamo parlando di grandi ambienti ma di uffici suddivisi in gruppi di al massimo 14 persone. Queste persone hanno diretto accesso alle piccole isole ambientali come celle telefoniche, piccole sale riunioni o anche le nicchie con isolamento acustico. Ogni collaboratore è in grado di individuare gli spazi più adatti al tipo di attività che sta svolgendo.